Non sarai già morta, vero? Dimmi dove sono. Perché dovrei dirtelo? Perché altrimenti ti uccido. Muoviti! Portami da loro! Dove siamo? È l'ultimo posto dove vorresti essere. Chi ti ha fatto questo? No! No! Accendi la luce. Metterò fine a tutto. Avresti dovuto uccidermi quando ne hai avuto l'occasione. Quanti gli fissi... Percibire. 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 Percibire ma sono.